Rodrigo Di Lauro, imprenditore pluripremiato, in questo video parliamo di come avere appuntamenti di vendita ogni singolo giorno per il tuo business, per la tua azienda. Ne parliamo dopo la sigla. È tra i massimi esperti in Europa sulla vendita B2B. È fra i consulenti segreti di CEO e manager di banche multinazionali. Viene chiamato dai suoi clienti lobbista delle corporate per la sua capacità di chiudere negoziati impossibili. Nel 2013 ha importato dagli Stati Uniti i corsi online in Italia, formando oltre 650.000 persone e diventando punto di riferimento per migliaia di giovani imprenditori. Quando si parla di vendita B2B e di imprese di successo, hai a che fare con Rodrigo Di Lauro. Ed eccoci qui, perché non mi conoscesse, sono Rodrigo Di Lauro, imprenditore pluripremiato, appunto come avrei visto anche nella sigla. Con la mia azienda mi occupo di affiancare aziende, corporate, business e vari manager di vari istituti bancari, nazionali, internazionali e anche delle multinazionali nel loro scaling aziendale, nel fare accordi di alto profilo, acquisizione, merge, acquisition, di tutto e di più con l'unico obiettivo di fare profitti. Ho aperto questo canale YouTube e ho fondato B2B Institute, la mia accademy completamente gratuita. Troverai il link qui sotto per aiutare te, giovane imprenditore e imprenditrice, a capire come funziona il business. Tutti quanti ti vendono corsi di formazione. Io ho fatto svariati milioni di euro vendendo corsi di formazione. Oggi, dopo aver venduto la mia ex società plurimilionaria, ho deciso di metterli a disposizione gratuitamente per insegnare e divulgare come si fa business in modo tale che tu, imprenditore, imprenditrice, possa diventare autonome, indipendente nell'ottenimento di clienti, fatturato e appuntamenti di vendita. Appuntamenti di vendita, di cui parleremo molto, diciamo, in maniera semplificata all'interno di questo video, ovvero perché non ottieni tutti i giorni appuntamenti di vendita. Allora, questo soprattutto se vendi B2B, ma anche nel B2C, ovviamente se il tuo è un prodotto che si vende, te la riduco al telefono o comunque hai dei venditori, dovresti avere comunque dei venditori, anche se vendi e-commerce dovresti avere dei venditori, qua già si apre un vasetto di Pandora. Qual è il punto? Il punto è avere appuntamenti di vendita, ovvero portare business in pipeline, avere degli appuntamenti, avere delle persone da contattare, avere delle persone interessate, ad acquistare il tuo prodotto o servizio e quindi ti dirò quello che devi fare per avere appuntamenti di vendita. Allora, partiamo da un presupposto molto semplice, non cambia se tu sei un'azienda, un freelance, se stai per iniziare, comunque la cosa veramente importante è che è solo tua la responsabilità di portare la pagnotta a casa. Questo che cosa significa? Significa che se tu non ti stai focalizzando sull'acquisizione di potenziali clienti, di prospect, inevitabilmente non sei abbastanza ad oggi consapevole che è la tua la responsabilità e di conseguenza non stai assicurando neanche un solido futuro alla tua azienda e al tuo reddito, al tuo income personale. Perché? Perché tu per guadagnare soldi devi vendere dei prodotti e servizi a qualcuno che si è interessato per acquistarli e per acquistarli ci devi fare una chiamata, un appuntamento di vendita, devi parlare tu o tu il tuo venditore, ma non lo so come sei organizzato, organizzata e vendergli i tuoi prodotti e servizi, quindi vendere una soluzione al loro problema. Questo è il modo di fare soldi, se non lo sapessi lo hai appena imparato. Detto questo, vista che è una tua responsabilità, capiamo che cosa serve per fare questi appuntamenti di vendita. Allora, in realtà in parte che ho già risposto, sicuramente ti serve una soluzione, cioè quindi ti serve un prodotto o un servizio che vada a risolvere un problema. Io in questo momento sto registrando questi video, in questo momento sto registrando questi video, in questo momento ho molto caldo, ok? Perché comunque oggi mi sono vestito così, però il clima poteva essere ancora un po' più fresco magari, avrei bisogno di un po' d'acqua, quindi in questo caso la mia soluzione è la mia mail che sta di sotto, che è già stata avvisata tramite un campanello riposto, qui sulla mia scrivania che tu non puoi vedere, che gli dice acqua, ok? Portami l'acqua, ok? Quindi questo è una soluzione al mio problema, ok? Quindi il mio problema è avere una persona dentro casa che faccia le scale, mi porti l'acqua, me la versi nel bicchiere, mi dice obbligato, obbligato signor, ok? E torna giù e si va a fare i cazzacci suoi, questa è una soluzione a un problema. Ti svelo un segreto, c'è una società alla quale mi rivolgo qui che mi manda med governanti, assistenti vari, eccetera, eccetera, quindi loro hanno individuato un problema e vendono questa soluzione a chi ha classe ambiente, ok? Che si può permettere questi servizi perché ha bisogno di delegare cose non importanti, cioè se io uscendo sotto mi prendo l'acqua e mi perdo nel cercare l'acqua, prenderla, berla così, trovare il bicchiere, non trovo il bicchiere, ok? Io perdo minuti preziosi che potrei utilizzare per fare i video per voi e a voi vi servono per imparare, per fare più soldi e dire bravo Rodrigo, mi fate la video di sua unianza, ci pagate, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, la prima cosa è avere una soluzione. La seconda cosa che in realtà vedo quasi spesso è non avere una strategia di acquisizione clienti, e dice ragazzi, cioè se io adesso vi faccio una domanda, se io adesso vi faccio una domanda, ma tu come acquisisci clienti? Tu come acquisisci clienti? Io sono sicuro che la maggior parte di voi mi diranno col network, il passaparola, il nostro prodotto vende, ok? Molti di voi mi risponderanno così, qualcuno mi dirà abbiamo una strategia, abbiamo un'agenzia che ci fa le ad, ok, sì ma queste non sono strategie, sono delle azioni specifiche singole, ok, che al massimo fanno parte di una strategia più grande. Io vi ho chiesto la strategia, la strategia probabilmente non la sapete perché, perché quando siete sotto i 2-3 milioni all'anno di fatturato, voi non ragionate per strategia, ragionate per azioni specifiche, e in un certo qual senso può anche star bene, ma non è il vostro caso sicuramente. Cioè che significa? Significa che all'inizio in realtà per la vera difficoltà, la vera difficoltà non è tanto fare il milione, la vera difficoltà è fare i primi 10.000 euro, i primi 20.000 euro, cioè quindi avere la validazione della vostra soluzione. Se voi non avete una soluzione, non potete neanche avere una strategia di acquisizione clienti perché, altro problema, molti di voi dicono che il vostro prodotto si vende a tutti, cosa, ragazzi, che non è assolutamente vera, non è assolutamente vera, perché anche se vendete l'acqua, l'acqua ha le sue caratteristiche di differenziazione, proprio con sodio, iodio, tutte quante quelle robe lì. Ok, quindi non è che voi vendete, potete, il fatto che voi possiate vendere a tutti, non significa che potete vendere a tutti, perché? Perché per vendere a tutti significa che il vostro, cioè che avete talmente tante risorse economiche e di persone per fare uno sforzo, diciamo, di acquisizione clienti talmente grande che vi servono svariati milioni di euro per vendere a tutti, soprattutto se vendete B2B. Ok, quindi qual è la cosa importante da capire? La cosa importante da capire è che dovete focalizzarvi sul far crescere verticalmente il più possibile il tipo di soluzione che potete vendere. Poi, e ci sono tanti video gratuiti anche sul mio canale YouTube dove parlo di questo, una volta che avete raggiunto il vostro, ho scappato il microfono, il vostro quantity wall, ovvero il limite che le piattaforme che utilizzate per acquisire clienti hanno per darvi i lead che vi possono dare, dovete, diciamo, modificare le vostre soluzioni, le vostre offerte, orizzontalmente, con un vestito diverso, per fare acquisizione su mercati complementari, adiacenti, collaterali. Ok, quindi questo, facciamo un esempio molto semplice. Io personal trainer, avendo il mio programma di personal trainer, a un certo punto tutti dicono, ma mi faccio la mia linea di integratori. Va bene, non deve essere un'altra azienda, può essere un prodotto parallelo, anche su cui abbiamo margini minori, ma che lo sforzo di marketing che vado a fare per vendere questi integratori non è nel andare in perdita per acquisire nuovi clienti a cui puoi vendere il programma, ma è a sell cross sell ed eventualmente a sfruttare delle strategie B2B anche per vendere prodotti B2C come i rivenditori, distributori, eccetera, per poi poter andare a monetizzare quest'altra tipologia, quest'altra tipologia di linea di prodotti aziendali. Cosa molto importante, dovete creare un'offerta che venda. Su B2B Institute trovate dei corsi gratuiti dove vi spiego proprio come creare un'offerta che vende e soprattutto avete bisogno di una strategia di acquisizione clienti. Su questo noi abbiamo dei programmi di affiancamento perché mi serve il tuo programma Rodrigo poi abbiamo tanti programmi non è detto che accettiamo tutti quanti. In primis perché noi mettiamo delle garanzie di risultato su contratto quindi giustamente finché adesso stai guardando questo video penso che verrà pubblicato nell'autunno del 2023 noi ad oggi abbiamo delle garanzie nel 2024 è possibile che le togliamo quindi ad oggi sei ancora in tempo. Detto questo, mio caro amico, mio caro amico che mi stai guardando considera che se non hai una strategia di acquisizione clienti cioè sei basic cioè sei basic cioè nel senso che stai lì fa le cose non sai perché le fai cioè perché non dovresti ecco la come ti posso dire ti rigiro la cosa perché non dovresti avere una strategia di acquisizione clienti o ti faccio un'altra domanda la tua strategia di acquisizione clienti ti sta portando a fatturare svariati milioni all'anno ok se sì ok puoi comunque migliorare se no come è molto probabile che sia cioè cazzo hai bisogno di una strategia di acquisizione clienti ok quindi questo è un po' questo è un po' il punto spero che questo video ti sia piaciuto abbia capito che è importante avere una soluzione che vende e una strategia di acquisizione clienti sono Rodrigo Di Lauro iscriviti al canale trovi tutti i link in descrizione per le nostre risorse gratuite dopo non abbiamo corsi da vendervi cose di questo tipo non vendiamo corsi di formazione e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao